Buongiorno Vincenzo Longo della sala operativa di G di Milano, mattinata incerta per le borse europee dopo un tentativo di rimbalzo nelle prime battute della sessione. Probabilmente i timori di rallentamento globale questa mattina hanno in parte trovato conferma nella lettura degli indici PMI dei servizi di aprile. A deludire le attese è stato in particolar modo il dato tedesco, con la figura composita che nel mese scorso è scesa a 53,6 punti, livello più basso da maggio 2015. Rimangono sotto pressione per lo più i titoli bancari in Europa, con i conti dei colossi europei che continuano ad incutire timore tra gli operatori sulla redditività dell'intero settore. Sul fronte valutario recupera terreno il biglietto verde dopo il tonfo degli ultimi giorni. Il cambio euro-dollar si staziona ora poco sotto area 1,15, lontano dai massimi toccati durante la seduta di ieri a 1,16 e 15. Gli operatori resteranno a questo punto in attesa delle indicazioni macroeconomiche che arriveranno questo pomeriggio dagli Stati Uniti, tra cui le stime ADP di aprile e la bilancia commerciale riferita sempre al medesimo mese. Il primo dato potrebbe dare qualche indicazione in vista del report del lavoro di venerdì, mentre il secondo è particolarmente importante perché andrà a contribuire alla seconda lettura del PIL in agenda poi a fine maggio. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona giornata e buon trading.